sta qui prime francese attaccante attaccante tre se che è david tre se che è contentiamo se è buona è francese no poteva essere tre se che è freddy festeggiamo kuman oddio niente di francese attaccante ti ti arrivi signori non ci credo non ci credo veramente cacca è uscita davvero francese che bello che bello che bello si è pazzesco brasile a di signori carrincia r9 no non ci voglio credere non ci voglio credere lo sai no roberto carlos ci stavo pensato perché qua sta uscendo ronaldo ma non c'è la miseria olandese a t signori eccolo cruif il maestro colui che ha inventato il calcio signori colui che ha inventato il calcio signori prime io alzo le mani francese no pires mamma mia pires pires iniziamo con una prime alla destra signori giarzinio ottimo devo dire ottimale devo dire ma bella ecco olandese a te a te signori bello cruif giovannino e giovanni non è male ai tans olandese attaccante van basten il cigno giocatore stranico eh ci c'è il patrizio viera viera signori viera va bene